Situata nei pressi dell'omonima Porta Cittadina, la chiesa di San Francesco fu costruita nella seconda metà del XIII secolo da una piccola comunità di francescani. Nella facciata, semplice, risalta il suo rosone a radiali, composto da 16 colonnine di diverso intaglio, che racchiudono il medesimo traforo della vicina chiesa di Santa Maria Maggiore. La sontuosa ornamentazione dell'interno, espresso da un unico corpo longitudinale, fa rivivere gli schemi consueti dello stile barocco. Nel presbiterio della chiesa di San Francesco, all'interno di una teca vitrea, sotto un'atmosfera di azoto secco, è visibile il tessuto di un mantello di lana. Indagini scientifiche affidate nel 2001 all'Università degli Studi di Chieti hanno attribuito il tessuto all'età medievale. Malgrado il silenzio delle fonti storiche, un'antica tradizione, riferita nel 1646 da padre Bonaventura Teuli, devoto scrittore e storico dell'ordine francescano, sostiene che il mantello fu donato alla città di Alatri da San Francesco d'Assisi nel 1222, il ricordo del suo passaggio per le terre del Lazio meridionale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.